Ciao ragazzi e benvenuti nel canale. Qualche giorno fa ho fatto la video recensione di questa smerigliatrice assiale della Parkside che in quel video vi avevo fatto capire proprio che mi era piaciuto parecchio. Avevo solo un dubbio che effettivamente ho visto dai commenti che è diventato anche un vostro dubbio che era il surriscaldamento di questa parte dell'impugnatura. Ti avevo quindi detto che per poterlo utilizzare con serenità dovevo per forza sapere com'era fatto internamente e quindi è arrivato il momento di farvi vedere com'è fatta internamente questa smerigliatrice assiale. Avviciniamo la telecamera. Allora ragazzi partiamo direttamente con la smerigliatrice smontata così risparmiamo un po' di minuti di video e vediamo già diversi componenti. Intanto vediamo che questa è semplicemente una copertura in plastica. Mi avete chiesto nei commenti sarà possibile secondo te metterla in una morsa di quelle fatte apposta per eccetera eccetera? Evidentemente sì perché basta togliere questa copertura in plastica e bisogna sollevare con un gaccia vita a taglio questo gancetto che va perfettamente a corrispondere dalla parte opposta del tastino quindi il gancetto si incastra qui e questo lo fate con la smerigliatrice tutta montata. Il tastino è qua sopra in poche parole facciamo un rimontaggio parziale ok? Il tastino è qua sopra di sotto vedete è così? Piano piano inserite il girevite qua sollevate e sfilate questa copertura di plastica. Nel video vi dicevo che questo qua scalda tanto e in effetti nei commenti molti di voi se ne sono accorti in realtà qua non c'è quasi niente praticamente questo è l'alberino qua è dove ci va la pinza quindi la parte esterna che noi vediamo e c'è questo cuscinetto che ha questa sede più c'è un cuscinetto da sotto nella parte frontale quindi fatto bene perché ha un cuscinetto qui e un cuscinetto qua anche se a me comunque per levare questo alberino mi è bastato fare così proprio con questa forza che avete visto ora e il cuscinetto da questa parte si è sfilato guardate anche la cura nei dettagli c'è una specie di spugnetta nella parte frontale per non fare entrare sporcizia all'interno e far rovinare il cuscinetto abbiamo una molletta che blocca quest'asta in posizione dalla parte posteriore questo cuscinetto che ha la sede qui in questo carter quindi di alluminio il movimento viene trasmesso all'albero e quindi all'accessorio che mettiamo tramite questi due perni che vanno a incastrarsi in questi due fori ricavati vediamo fuori di questa gommina questi sono i due pernetti del motore ora ci arriviamo questa è la ventola e questa gommina che trasferisce il moto in questo modo buono così ha anche un fissaggio morbido tra i due e se ci sono vibrazioni non le trasmetterà buono questo mi piace questo forellino che vedete è il perno che noi andiamo a premere vedete quando andiamo a bloccare l'alberino e devo dire che è anche abbastanza grosso rispetto ad altri attrezzi che sono piccoli piccoli e poi si rompono e va nella parte più spessa così non sono andate a indebolire l'albero che comunque è bello pesante quindi è tutto pieno molto robusto mi piace questa parte è fatta bene andando indietro vediamo la grande ventolina e il motore è uno Speedmaster RS897 20V ha queste alette per incastrarsi tutte e due le scocche qui vediamo prova a farvi vedere vediamo le spazzole là dentro ok si vedono mentre da questo lato l'avvolgimento il tastino di accensione come vedete ha un leveraggio che va a premere il pulsante qua dietro ecco perché sono riuscito a metterlo qua dentro nonostante le dimensioni del motore quello che è scritto in confezione motore con alloggiamento in metallo in realtà sì è vero è tutto il motore che ha alloggiamento in metallo perché alcuni utensili della Parkside hanno parte del motore bloccato sulla plastica soprattutto quest'alberino spesso è bloccato sul carter di plastica che poi comprometterà la funzionalità soprattutto se lo mettiamo sotto stress e la plastica si va un pochettino a deformare questo è tutto un blocco unico il motore è dentro questo è il circuito la scheda di controllo velocità di regolazione e la batteria molto solido anche la mezza scocca molto dura questo attrezzo mi piace davvero tanto questo qua ora lo rimettiamo c'è il cuscinetto ma entra pulito pulito perfetto cerchiamo di farlo entrare ok è entrato solo solo questo cuscinetto era bloccato con queste tre viti che hanno una grande rondella comunque erano montate così ve lo faccio vedere perché non vi ho fatto vedere lo smontaggio quindi questo riscalda e non ci possiamo fare niente è normale all'interno non c'era niente non si deve mettere niente l'attrito del cuscinetto essendo tutto in alluminio l'attrito dei due cuscinetti sviluppa colore che si propaga in tutta l'impugnatura quindi svelato l'arcano riscaldamento di questa parte normale tant'è che c'era scritto qui però effettivamente questa parte veniva coperta da questo ed effettivamente non si vedeva probabilmente questo è un accessorio che hanno sviluppato dopo oppure è pensato anche per poter essere rimosso e messo nella morsa quella per i trapani per utilizzarlo come diciamo smerigliatrice fissa infatti qua c'è il loghetto che ci dice attenzione parte che diventa molto calda rimontiamo al contrario quindi non avete visto lo smontaggio ma è facile si mette prima l'altro pezzo della scocca ok si avvitano le viti facendo attenzione di fare il giro al contrario e di riavvitare quando si sente il click ok così siamo sicuri di riprendere la stessa filettatura dato che stiamo avvitando sulla plastica la vite deve entrare senza nessuna resistenza fino alla fine e poi dopo aver avvitato tutte le viti facciamo coincidere i due perni e ruotiamo fino ad arrivare ad avere il tasto per bloccare vicino il tasto di accensione e rimontiamo questi viti qua autofilettanti sempre con la regoletta giro al contrario per non rovinare la filettatura appena sentiamo il click avvitiamo ok e possiamo avvitare dopodiché tutte le viti mettiamo questo colpo secco e incastriamo va bene ragazzi spero vi avevi fatto compagnia per 14 minuti vabbè farò diversi tagli mi piace mi piace ancora di più ora che l'ho visto smontato così è come si presenta senza la copertura di plastica se volete mettere un collarino qua e bloccarlo nelle morse tipo quelle dei trapani mettendo la copertura di plastica con l'incastro parte di sotto e così come lo usciamo dalla confezione va bene ragazzi avete visto ora che so come è fatta mi piace ancora di più fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi al canale ciao ciao